Un viaggio alla scoperta dell'Italia degli anni 70 e 80, catturata dai suggestivi scatti in bianco e nero del fotoreporter statunitense di origine italiana Lude Matteis. Al Museo di Roma in Trastevere fino al 24 marzo è ospitata la mostra fotografica dei suoi lavori dal titolo Lude Matteis, un viaggio di ritorno. Il percorso museale è scandito dalle parole del poeta Beat Lorenzo Ferlighetti e si articola attraverso 100 foto, per la maggior parte inedite e riprodotte in forma di stampa ai sali d'argento, catturate dall'obiettivo di De Matteis durante quattro viaggi in Italia nel 1972, 1977, 1979 e 1980. In essa troviamo l'essenza dell'Italia di allora, quella ufficiale, le battaglie popolari per i diritti e la vita nelle strade. La mostra, oltre ad essere un prezioso documento storico giornalistico, offre l'aspetto emotivo del come eravamo, aprendo la consapevolezza di ciò che ormai si è rimediabilmente perduto.